Il centro operativo comunale è attivo 24 ore su 24 per l'emergenza. Ecco come funziona. La final monica non andrà a San Giovanni, il presidente tratta con il comune per un'altra sede. Quando piove ci segnalate sempre lo stesso problema, le cadetoglie sono ostruite dalle foglie. Buonasera telespettatori, benvenuti a questa nuova edizione di Bassano Tg. Ovviamente partiamo con il maltempo perché con il maltempo cresce anche il livello di attenzione per il ponte vecchio. Allora vediamo subito gli aggiornamenti nel nostro primo servizio. Il ponte degli Alpini è stato chiuso quando il Brenta ha raggiunto la quota 2,66 metri e una portata di 480 metri cubi al secondo. Tutto questo per garantire la sicurezza dei cittadini con l'interdizione del manufatto. Ai pedoni e le ponte rimarrà chiuso fino al cessato allarme. Per il bacino dell'Alto Brenta è passato il livello rosso per quanto riguarda la rete idraulica principale. E' rimasto rosso anche per la rete idraulica secondaria e sul fronte idrogeologico, appunto quello delle frane. Per quanto riguarda invece il bacino del Corlo, questo deve rimanere il più basso possibile nel momento in cui arriverà al picco massimo di precipitazioni. Un provvedimento che è stato preso per contenere le portate del fiume Brenta e non pregiudicare la stabilità del ponte di Bassano a tutela anche della popolazione di Valstagna. Il comune di Bassano ha attivato il COC, il centro operativo comunale di Piazza Castello. C'è una sala di emergenza aperta 24 ore su 24 per monitorare l'emergenza e dare anche consigli sia alla popolazione che anche alle aziende in caso di maltempo. Allora vediamo come funziona. Salve, allora chiamo perché l'attuale livello del Brenta è in crescita a causa del piogge. La situazione al momento è molto tranquilla, però è prevedibile che nei prossimi giorni si alzi ancora e ci sia il rischio di allagamento delle parti basse dei fabbricati. Ecco, spieghiamo e facciamo vedere cos'è un COC, perché chiaramente non tutti i telespettatori sanno cos'è un COC. Allora, il COC è un centro operativo comunale che viene attivato in casi particolari. Eccoci. Prego. E in questo centro viene monitorata la situazione. In questo caso abbiamo un'allerta che è stato inviato dalla regione a tutti i comuni. In alcuni comuni ci sono dei problemi legati alle precipitazioni delle prossime ore che possono eventualmente creare dei problemi nei territori. Quindi questi centri servono per tenere monitorata la situazione e per intervenire prontamente in caso di necessità. Facciamo anche un'azione preventiva perché in alcune situazioni andiamo magari anche a contattare se ci sono cittadini da allertare, senza voler allarmare nessuno, però metterli al corrente che potrebbero esserci dei punti di criticità magari in qualche ora della giornata. Ecco, qui gli operatori, in questo caso gli scout, stavano proprio telefonando alle aziende che sono vicino al Brenta. Diciamo, allora abbiamo intanto per fortuna la collaborazione di tante associazioni della protezione civile e qui abbiamo un esempio quest'oggi. Vengono avvisati coloro che hanno magari abitazioni o attività sui punti, nel nostro caso lungo il percorso del Brenta, che potrebbero magari avere degli effetti con un innalzamento delle acque che possano provocare eventualmente piccoli allagamenti o cose di questo genere. Ecco, in generale voi preferite essere più prudenti che no. Cioè, a volte la popolazione non comprende i vostri allarmi e magari la chiusura del ponte in via precauzionale. Esatto, beh, questo vale non solo per noi, ma a partire dalla regione e dalla prefettura che si è attivata ancora ieri pomeriggio, è meglio prevenire. Quindi dire, è possibile che ci siano dei fenomeni importanti, attiviamoci, perché così se dovessero accadere siamo pronti. Per quanto riguarda il ponte, noi abbiamo una soglia di attenzione maggiore, perché, come ben sapete, il ponte non è in condizioni ottimali, abbiamo metà stilate che sono ancora danneggiate, quindi non sono ancora state ripristinate. E proprio per questo, se l'acqua raggiunge una certa soglia, in automatico parte un allarme, vuol dire che il ponte verrà chiuso per lo stretto tempo necessario, verrà chiuso al passaggio dei pedoni. E la furia dell'acqua, il vento e anche la situazione della frana sono i fronti aperti dal maltempo in Val Brenta. Una valle incuneata tra il grappa e l'altopiano per 25 chilometri e 5.000 abitanti in apprensione per il maltempo di queste ore. Tra i fronti aperti che impegnano sindaco e amministrazione, 24 ore su 24, la pioggia e di conseguenza il livello dei fiumi, non tanto del Brenta, sotto controllo, quanto dei corsi d'acqua secondari che si ingrosseranno nelle prossime ore prima di finire proprio nel Brenta. Qui è allarme rosso, il secondo fronte è quello del vento. E il vento ha già causato degli sbalzi di tensione con l'energia elettrica che per un po' ha funzionato a singhiozzi in alcune zone. Infine la questione geologica, anche qui è allarme rosso dopo che con un boato nella notte dei massi si sono staccati nella contrada a Mattana di Collicello, costringendo il sindaco a fare evacuare 6 famiglie e una quindicina di persone in tutto. Fatte le verifiche, il pericolo ora non c'è più. Sono rientrate tutte nelle loro abitazioni le circa 15 persone evacuate in Val Brenta per il pericolo causato dalla frana che si è verificata in serata e ovviamente adesso i tecnici della regione dovranno stabilire l'effettiva pericolosità della frana. Nei prossimi giorni si deciderà come procedere. Infine le acque si stanno ingrossando tutti i corsi d'acqua che si tuffano nel Brenta. A oliero paesaggio lunare la furia dell'acqua comincia a farsi sentire. A Valstagna invece i salti dell'acqua sono spettacolari e inquietanti prima che la corrente finisca nel Brenta con forza esplosiva. Nella giornata che vede la pioggia andare e venire il cielo e cupo non promette nulla di buono ma da queste parti ci sono abituati. La tensione è sempre alta, la protezione civile è pronta a partire mentre in municipio tutte le luci accese indicano che il centro operativo è aperto pronto a prendere le decisioni giuste in caso di peggioramento del tempo. E per il maltempo il sindaco ha deciso di tenere le scuole chiuse in Val Brenta mentre le famiglie come avete sentito evacuate nella notte per la frana sono rientrate nelle loro abitazioni. Vento, pioggia, fiumi e frana di Collicello, questi temi affrontati in queste ore dal sindaco e dalla giunta di Val Brenta amministrazione nata dalla fusione di quattro comuni e impegnata in sopralluoghi continui in un territorio di ben 93 km2 che si snoda per quasi 25 km. Nel municipio di Valstagna è stato attivato il COC, centro operativo comunale, in contatto diretto con la prefettura. Noi abbiamo aperto il COC come da indicazione del prefetto e chiuso le scuole. Questa invece è stata una decisione autonoma mia del comune di Val Brenta. Lo abbiamo fatto principalmente legata alla preoccupazione che c'era nel Bellunese. Infatti tutti i comuni vicini al Cismon e del Feltrino hanno chiuso le scuole perché c'era questo codice rosso soprattutto per la rete idrica secondaria. Novità rassicuranti intanto vengono dalla zona di Collicello dove si è registrata la frana. Un primo sopralluogo ha consentito di escludere cadute imminenti. Però quel fronte lì va approfondito quindi abbiamo preso contatti con la regione in particolare con la difesa del suolo in modo di svolgere un po' tutte le attività successive in modo che sia garantita l'incolumità dei nostri concittadini. Paura finita dunque per le sei famiglie e una quindicina di persone in tutto che dopo aver passato una notte in alberghi e bed and breakfast della zona sono rientrate nelle loro case. Io credo che sia stata fatta una buona operazione perché nel dubbio, nel buio della notte insomma abbiamo cercato di dare una risposta immediata. Dopo per fortuna è sembrata meno grave del previsto però insomma credo sia stata fatta la cosa giusta e io ringrazio sempre i miei concittadini perché hanno capito la singolarità del momento non hanno fatto nessuna polemica anzi. La casa della musica che doveva sorgere al vecchio ospedale e spostata alla chiesa di San Giovanni in centro non piace alla filarmonica bassanese. La casa della musica alla chiesa di San Giovanni come deciso dalla nuova amministrazione proprio non piace alla filarmonica bassanese. Troppi problemi di tipo logistico. San Giovanni è in centro quindi arrivare, scaricare strumenti, uscire, avere i genitori che vanno andati indietro che portano i ragazzi in piazza, in una zona dove c'è la ZTL, dove ci sono magari necessità per poter utilizzare le piazze per il mercato, per manifestazioni e altro rendono difficile e inagibile, cioè difficile e difficile da raggiungere insomma il luogo dove poi si muove con l'attività della chiesa di San Giovanni. Benvenga, ci dice ancora Baggio, che vi sia la possibilità per altri gruppi musicali di potersi esprimere nel cuore della città, ma la filarmonica bassanese proprio non ci sta al cambiamento di sede. Per la filarmonica rimane aperto un dialogo che è attivo con l'amministrazione comunale per cercare di capire quale potrà essere la sede più appropriata per individuare la nuova sede della filarmonica bassanese, che è da avere delle aule di studio, delle aule di prova e quindi tutta una serie di caratteristiche un po' particolari. In Viale Scalabrini la pioggia rischia di creare problemi e il perché arriva da una segnalazione dei nostri telespettatori. I telespettatori segnalano e Rete Veneta risponde, in questi giorni di pioggia intensa l'attenzione va alle strade e alle cosiddette caditoie, le griglie che devono ricevere l'acqua che scorre ai lati delle strade per impedire che si formino pozzanghere o peggio allagamenti. Una situazione prevista dai bollettini meteo, ma che in alcuni casi, come questo, segnalato dai nostri telespettatori, lascia desiderare. Siamo andati a verificare e in effetti le caditoie di Viale Scalabrini sono parzialmente in alcuni casi del tutto ostruite dalle foglie secche e dai rami. È evidente che se non svolgono la loro funzione e non ricevono l'acqua piovana, il pericolo di allagamenti in una delle strade più trafficate della città è dietro l'angolo. In caso di previsioni negative, la manutenzione dovrebbe essere sempre programmata per tempo per garantire sicurezza alle abitazioni e, come in questo caso, anche agli automobilisti. Intervenire con la pioggia in corso è ovviamente più difficile e meno efficace. E continuate quindi a scriverci attraverso il nostro Tg Linea Aperta, proprio sul degrado vicino a casa vostra, quindi mandate un messaggio via WhatsApp al 340-321-8379 oppure inviate un'e-mail. Ed è stato presentato il programma del Natale a Bassano con diverse novità. Città che vai, Natale che trovi, a Bassano quest'anno è diverso, con casette cariche di neve, mostre, shopping, eventi, concerti, molte sorprese per i piccoli, il tutto perché Bassano diventi polo attrattivo. La magia di Bassano ci porta sempre e ci avvicina ai nostri centri storici, perché in realtà noi cerchiamo sempre un po' di romanticismo e di vivere un po' la magia. Quindi sì, speriamo che questo sia un ulteriore step in questo percorso lunghissimo che noi vediamo a medio e lungo termine. Bassano, città del Natale, dal weekend del 30 novembre con il camminamento delle mura, gli elfi che accolgono i bambini nel sentiero di Babbo Natale, musica e un nuovo albero con palline e la possibilità di scrivere un messaggio personalizzato in piazzetta Guadagnin dedicata all'associazionismo, il trenino, la visita alla torre civica, il concerto di Cheryl Porter a Santa Maria in Colle e altro ancora. Tantissimi, chiamiamoli attori, no, ma io direi amici da associazioni, privati, scuole di danza, il Don Andrea per il nostro abate, l'associazione Tracce, quindi veramente abbiamo creato, questo è un Natale creato tutti insieme. Incidente giovedì a Campo San Piero, un camion ha sbagliato la curva ed è rimasto incastrato per ore sopra il Muson dei Sassi. Una curva presa troppo stretta e il tir si è inclinato. Incidente giovedì pomeriggio lungo l'argine vecchio del Muson a Campo San Piero. Paura per un camionista friulano di 55 anni che fortunatamente è rimasto illeso. Traffico dunque chiuso e i pompieri in azione per evitare che il mezzo pesante cadesse in acqua. Dopo alcune ore, grazie all'intervento degli agricoltori della zona con alcuni trattori, il camion è stato spostato. E nel prossimo servizio vediamo se ci sarà qualche spiraglio di sole nel prossimo fine settimana. Allora sentiamo il generale Giancarlo Iannicelli. Subiamo ancora gli effetti di una depressione che ormai è ferma da diversi giorni su di noi ed è impedita nello scorrere, quindi a lasciare le nostre zone a permettere un miglioramento, è impedita nel movimento verso est da un'area di alta pressione, molto intensa, sull'Europa orientale, quindi continua a generare sistemi perturbati, continua a indirizzarci sistemi perturbati, i cui effetti purtroppo sono evidenti e anche per questo fine settimana avremo un tipo di tempo variabile ma a tratti anche abbastanza frequentemente perturbati. Quindi è perturbato. Vediamo intanto più nel dettaglio, sabato mattina abbiamo una nuvolosità variabile, anche intensa senza fenomeni, poi nel corso della mattinata avremo un peggioramento, si approssimerà a un sistema perturbato che porterà piogge diffuse, anche se non intense ma continue, quindi daranno un contributo ancora importante alle piogge già cadute. Per domenica, primissime ore, sentiamo ancora gli effetti del passaggio del sistema perturbato, primissime ore, ripeto, di domenica e poi un miglioramento anche domenica. Una nuvolosità irregolare, variabile e non escluso, con un po' di fortuna nel corso della giornata, anche dei temporanei rasserenamenti. Una variabilità che ci accompagnerà per lunedì e poi martedì, almeno per quelle che sono le carte attuali, ci danno un peggioramento di nuovo del tempo. Quindi anche la prossima settimana in gran parte sarà l'insegna della variabilità e di questa instabilità che ci continuerà a interessare. I venti sono deboli, ma moderati, con qualche rinforzo anche significativo, inizialmente dai quadranti occidentali e poi temporaneamente si pongono improvvisamente dai quadranti nord-orientali, quindi area più fresca. Temperature minime 7-8 gradi, le massime dagli 11-13 gradi. Per finire l'Alta Triadica, naturalmente con questa situazione, si presenterà molto mosso, addirittura agitato. Focus da non perdere questa sera, autonomia nella tempesta. Questo è il titolo della puntata in diretta da Villafranca Padovana. Allora con il nostro direttore Luigi Baccialli discuteranno di autonomia e anche di maltempo Maurizio Conte, Paolo Feltrina, Renato Masona e Eugenio Benettazzo. Quindi non perdete l'appuntamento a partire dalle 21.15 questa sera. Il nostro telegiornale quindi termina qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona serata, arrivederci. Ben trovati al meteo. Prosegue la fase di maltempo, l'intensa perturbazione giunta sul nostro territorio si farà sentire anche nella giornata di sabato 16 novembre. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni diffuse, localmente anche intense e abbondanti, specie in serata e in nottata. Limite iniziale delle nevicate sui 1000-1200 metri, poi a quote più elevate. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, valori massimi compresi invece tra i 10 e i 12 gradi. Tempo perturbato anche a Vicenza, a Bassano del Grappa in particolare. Sarà una giornata, vedete, caratterizzata da rovesci e temporali. Sin dal mattino, con quantitativi di pioggia consistenti, specie in nottata. Temperature stazionarie. Dal Meteo di Rete Veneta per ora è tutto. Arrivederci. Per ogni occasione speciale stupisci i tuoi ospiti con i nostri rinfreschi. Panini mignone 80 centesimi. Torte intere 10,90 euro al chilo. Cherubin, a Bassano, via Gobbi.